Eccoci giunti al secondo appuntamento della nostra rubrica C'era una volta la ginnastica, protagonista Svetlana Corchina. Con 9 ori, 8 argenti e 3 bronzi vinti ai campionati mondiali, è la seconda ginnasta più medagliata di sempre ai mondiali, dopo Simone Biles. Nonostante i diversi cambiamenti del codice dei punteggi, è riuscita a continuare la sua carriera e a vincere diverse medaglie per oltre un decennio, partecipando a tre Olimpiadi, Atlanta 1996, Sydney 2000 e Atene 2004, vincitrice, tra l'altro, di sette medaglie olimpiche. Nel 2003 vince il suo terzo ed ultimo concorso generale mondiale all'età di 24 anni, diventando così la seconda ginnasta più vecchia ad aver vinto un titolo mondiale. È inoltre la prima ginnasta ad aver vinto tre concorsi individuali ai campionati mondiali. Nella sua carriera, in totale, ha vinto 47 medaglie tra mondiali, olimpiadi ed europei. Durante la sua carriera è stata spesso criticata per il suo atteggiamento. A volte si è proclamata vincitrice morale di eventi che non ha mai vinto. Per questo motivo è conosciuta con il soprannome di Diva, capace di catalizzare su di sé l'attenzione nel bene e nel male, per la sua bravura, la sua bellezza e anche per il suo carattere. Dalla presunzione più sfacciata, alle lacrime, alla ricerca della perfezione, tutto in Svetlana-Corkina era un dramma. Ma andiamo a scoprire dove tutto ebbe inizio. Svetlana Vasilievna-Corkina è nata a Belgorod, in Russia, il 19 gennaio del 1979. Svetlana era una bambina magrissima, quasi scheletrica. Inizia a praticare la ginnastica artistica a 4 anni, spinta dalla madre, preoccupata per il suo poco appetito. In un'intervista successiva dichiarò All'età di 6 anni, incominciò ad allenarsi in maniera seria, con l'obiettivo di diventare una professionista. Ad accompagnarla in questo lungo cammino, il suo storico allenatore, Boris Pilkin. La prima cosa che Svetlana-Corkina chiese al suo allenatore, dopo averlo conosciuto, era di diventare brava come Svetlana Bogeskaya, ultima grande ginnasta sovietica e idolo di Svetlana-Corkina. Con i suoi 165 cm di altezza, Svetlana era insolitamente alta per praticare questo sport e spesso fu incoraggiata ad iniziare una carriera nella ginnastica ritmica. Svetlana però si dimostrò irremovibile e con l'aiuto del suo allenatore, ma soprattutto della sua perseveranza, riuscì nel suo obiettivo, diventare la migliore. Basti pensare che nella sua lunga carriera è riuscita a creare ben nove nuovi elementi di ginnastica artistica. Nel 1992, all'età di 13 anni, entra a far parte della Nazionale Juniores e alla sua prima gara arriva quinta nel concorso individuale. È nello stesso anno che inizia ad eseguire i primi elementi che prenderanno poi il suo nome, il Corkina 1 alle parallele e alla trave. Nel 1993 partecipa ai nazionali russi, riuscendo a vincere una medaglia in tutti gli attrezzi. L'oro nel concorso generale, alle parallele asimmetriche, alla trave, l'argento al volteggio e il bronzo al corpo libero. Nel 1994, a 15 anni, passa di categoria ed entra a far parte della Nazionale Russa Senior. Partecipa alla Kuniki Cup, dove vince la medaglia di bronzo alle parallele nel concorso generale, mentre vince l'oro al volteggio. Ai campionati russi diventa poi campionessa nazionale. Successivamente compete ai campionati europei di Stoccolma, in Svezia, dove si aggiudica l'argento nel concorso individuale, mentre diventa campionessa alle parallele asimmetriche con il punteggio di 9,887. All'epoca, il 10, era il punteggio massimo. Ai campionati mondiali del 1994, Svetlana arriva a sesta nel concorso generale individuale, individuale, mentre si dovrà accontentare, si fa per dire, dell'argento al volteggio e alle parallele asimmetriche. Per un'indole ambiziosa come la sua, questo rappresenta una sorta di fallimento. Per questo motivo si rinchiude in palestra e sostiene allenamenti estenuanti. La leggenda vuole che le luci della sua palestra non si spegnessero mai, nemmeno di notte. Nell'anno successivo partecipa ai mondiali in Giappone. Qui esegue un movimento nuovo alle parallele, che lascia senza fiato giuria, pubblico e avversarie. Grazie ad un quasi perfetto esercizio sugli stagi, vince la sua prima medaglia d'oro mondiale, il che segnerà l'inizio di un vero e proprio dominio in questo attrezzo, durato sette anni. A 17 anni partecipa alla sua prima Olimpiade ad Atlanta, negli Stati Uniti d'America. Durante le qualificazioni esegue un nuovo movimento alle parallele. In questa occasione la squadra russa dovrà accontentarsi del secondo posto, dietro alle americane. Individualmente, nonostante Svetlana Korkina fosse una delle probabili vincitrici della medaglia d'oro, cade durante l'esercizio proprio alle parallele asimmetriche, finendo così quindicesima nel concorso individuale. Tre giorni dopo vincerà la medaglia d'oro, proprio alle parallele. Nel 1997 cambia il codice dei punteggi, ma questo non impedisce a Svetlana Korkina di vincere nuove medaglie. Grazie a questi buoni risultati, entra a far parte della squadra che compete ai mondiali di Losanna, dove riesce a qualificarsi per tutte le finali. Insieme alla squadra russa vince l'argento, battute soltanto dalle rumene. Individualmente diventa per la prima volta campionessa all-around. Vince l'oro alle parallele, l'argento alla trave e al corpo libero. Durante la finale al volteggio tocca il tappetino con le mani e decide di non eseguire il secondo salto. Nello stesso anno posa per l'edizione russa di Playboy. Nel 1998 partecipa ai campionati europei di San Pietroburgo. Gioca in casa e non delude le aspettative del pubblico, diventando campionessa europea, aggiudicandosi l'oro alle parallele e al corpo libero, mentre vince l'argento nel concorso a squadre. In questa occasione Svetlana Korkina pretende e ottiene di utilizzare come sottofondo del suo esercizio al corpo libero la colonna sonora del film americano Pulp Fiction. Alle universiadi del 1999 vince quattro medaglie d'oro nel concorso a squadre, quello individuale, alle parallele asimmetriche e al corpo libero. Nello stesso anno partecipa ai campionati mondiali in Cina e qui, la sua caduta alla trave, determina il secondo posto della squadra rossa, che fino a quel momento aveva dominato la gara. Nel concorso individuale commette molti errori e arriva dodicesima. Nelle finali ad attrezzo vince il quarto titolo consecutivo alle parallele. Ad inasprire ulteriormente le critiche nei suoi confronti sarà la sua performance al corpo libero, dove appare distratta e quasi svogliata. Nel 2000, complici le tante critiche ricevute dopo i mondiali dell'anno precedente, la Korkina torna in palestra con maggior motivazione e partecipa agli europei di Parigi, vincendo quattro medaglie d'oro, parallela, trave, concorso individuale e concorso a squadre. A settembre di quello stesso anno compete ai giochi olimpici di Sydney, in Australia. Durante le qualificazioni la squadra russa arriva prima e individualmente svetlana è prima nel concorso generale. Riesce inoltre a qualificarsi per le finali al volteggio, alla parallela e al corpo libero. Durante le finali a squadre, la Russia arriva al secondo posto. Nella gara individuale, Svetlana Korkina, dopo la prima rotazione, si trova al primo posto, grazie ad un 9.812 al corpo libero. Ma durante la seconda rotazione lei e molte altre ginnaste cadono dal volteggio. Dopo la brutta caduta è mentalmente scossa e cade anche dalle parallele asimmetriche. Mentre la Korkina piange inconsolabile sulla spalla del suo allenatore, i detrattori già parlano di viale del tramonto. Senza però considerare un aspetto, Svetlana Korkina è ormai un mito e tale la considerano anche alcune ginnaste. Ed è proprio una di queste ginnaste che si impunta affinché venga misurato il cavallo ed ecco che l'arcano viene svelato. Si scopre così che è stato posto ad un'altezza non regolamentare. 5 centimetri più in basso. A tutte le ginnaste, che avevano già eseguito i propri salti, fu offerta la possibilità di ripetere. Ma Svetlana rifiuta, sapendo che non avrebbe comunque vinto la medaglia, vista la caduta alle parallele. In un'intervista più tardi, dichiarò, fa ancora molto male ed è stato crudele per tutte le partecipanti gareggiare ad un'altezza non consona. Potevamo ammazzarci. 5 centimetri potevano decidere il futuro di uno sportivo. Durante la finale a squadre sono troppe le cadute delle ginnaste russe e così l'oro va di nuovo alla Romania. La squadra russa considerò l'argento come un insulto in base alle loro aspettative, tanto che sia la Korkina che la Prudunova si levaranno dal collo le medaglie subito dopo averle ricevute, mentre scendevano dal podio per le foto di rito. In occasione della finale al volteggio, Svetlana Korkina concede il suo posto alla compagna di squadra Zamolo Cikova, che vinse poi l'oro. Svetlana Korkina chiude questo appuntamento con un oro alle parallele e un argento al corpo libero. Dopo la chiusura del ciclo olimpico, la Federazione Internazionale Ginnastica cambia di nuovo il codice dei ponteggi. Nell'ottobre del 2001 Svetlana Korkina competa i campionati mondiali in Belgio, dove lei e la Raducan dominano il medagliere. Nel concorso a squadre la Russia arriva al secondo posto, mentre individualmente è proprio Svetlana Korkina a portarsi sul gradino più alto del podio. Nelle finali di specialità vince l'oro al volteggio e alle parallele asimmetriche, mentre il bronzo al corpo libero. L'anno successivo partecipa agli europei di Patrasso, vincendo l'oro nel concorso individuale, alle parallele e al corpo libero, mentre arriva a seconda alla trave. Nel 2003, durante la sua ultima partecipazione ad un campionato mondiale, nonostante l'età 24 anni, Svetlana Korkina si conferma una delle migliori ginnaste della scena internazionale. Riesce infatti a vincere il terzo concorso individuale della sua carriera e diventa così la prima ginnasta ad essere riuscita nell'impresa. Riesce inoltre a qualificarsi per tre finali, ma decide in seguito di ritirarsi. Nel 2004 partecipa al suo ultimo campionato europeo ad Amsterdam. Qui vince l'oro alle parallele, il bronzo alla trave, mentre la squadra rossa si aggiudica al terzo posto. All'età di 25 anni partecipa alla sua ultima Olimpiade, l'Olimpiade di Atene 2004. Qui, nella finale a squadre, la formazione russa si ferma al terzo posto, dietro alla Romania e agli Stati Uniti. Svetlana era considerata la probabile vincitrice, essendo la campionessa mondiale in carica. Tuttavia, le sue buone routine non sono state sufficienti per superare l'americana Carly Patterson, che la batte di un decimo e poco più. Nell'immaginario collettivo, Svetlana Korkina era diventata la ginnastica artistica, era il simbolo della sfida perpetua, del tormento incessante e di quella disperata ricerca di perfezione. Si conclude qui il nostro racconto sulla vita di Svetlana Korkina, la ginnasta russa più decorata di sempre.